mamma mia che dolore, mamma mia, oddio, oddio, mamma mia, che dolore McGox, di nuovo, mi sono rotto le balle, McGox è fallito nel 2014 eccetera eccetera, non vi ripeto più McGox chi è ogni anno se ne esce McGox, ogni anno poi è una fake, questa volta dovrebbe essere vero se vi ricordate cos'era circa neanche un mesetto fa, quando hanno spostato il wallet vi dissi, spostato il wallet forse inizierà la distribuzione come hanno promesso, avevano promesso verso ottobre in avanti ora hanno anticipato dal prossimo mese, probabilmente è vero se no ieri non avrebbero comunicato appena arrivata la comunicazione già Bitcoin faceva cagare di suo, venuti giù, tanto ho bucato tutto supporto del canale orizzontale in cui eravamo entrati a marzo, supporto addirittura del canale ascendente è partito sostanzialmente da novembre 2022, quindi dal bottom, supporto superiore, siamo rientrati dentro anche tranciato la media a 21, però lo sto cercando di riprendere, vedremo poi come chiudere la settimana ancora presto il tutto perché McGox possiede 200.000 Bitcoin che verranno distribuiti in realtà dovrebbero distribuirne 143.000 o 150, sono quelli la quantità che va ridistribuita fate calcolo che MicroStrategy ne ha 226.000 e se andiamo sugli ETF qua, iShare adesso ne ha 305.000, Grayscale ne ha ancora 278 e continua ogni giorno a dampare su di noi e Fidelity ne ha 167.000, quindi è una bella quantità e non è una quantità piccola e cosa significa per Bitcoin e il suo ciclo? Finito? Siamo entrati in bear market, tanto mai il trend è discendente adesso andiamo a bucare tutto, ci vediamo sui 30.000 dollari nooo, sono piuttosto ostimista oggi, anzi, sarà che mi sono svegliato bene mi è piaciuto il calo che abbiamo avuto ieri, la reazione delle alte, adesso ne parliamo significa che, e dobbiamo vedere, ma al momento non ci sono dati ho spettato a fare la puntata oggi apposta se usciva qualche informazione ma non è uscita in che modalità distribuiranno? Mi spiego sono 150.000 da ridistribuire li danno tutti a luglio? Probabile li danno tra luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre un po' alla volta? Non sarebbe male perché non sarebbero così tanti pezzi se abbiamo una diluizione nei mesi? Non è così grave se ce li mettono tutti a mercato tra luglio e agosto eh, il discorso cambia, però non abbiamo dati, vedremo a stare facendo secondo me, ve lo dico, è un 60-70% schiacciassella a questi prezzi in quanto la situazione di partenza è questa poi mettetevi nelle loro condizioni io fossi uno di loro, avrei di nuovo il mio wallet credito che mi sarei creato negli anni, eccetera mi arrivano questi soldi che ormai consideravo perso miracolo, sell, 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 spacco anche la tastiera per vendere come avete notato da vari video sono uno che viaggia molto e non potrei farlo in sicurezza senza lo sponsor storico di questo canale NordVPN, perché grazie a NordVPN durante i miei viaggi posso utilizzare in tutta sicurezza le reti pubbliche come hotel, aeroporti, stazioni, eccetera, eccetera e con ben 10 dispositivi diversi avete capito bene? 10 dispositivi diversi fate un solo abbonamento con un account e potete utilizzarlo su 10 dispositivi differenti vi dovrebbero bastare se poi mascheriamo il nostro IP dall'app del dispositivo da cui siamo connessi potremo geolocalizzarci utilizzando uno dei 6.000 serve sparsi nel mondo che ci mette a disposizione NordVPN aggirando il fenomeno della discriminazione dei prezzi e risparmiando sulle nostre prenotazioni per usufruire di tutti questi servizi e molto di più non ti resta che andare al link sottostante dove potrai ottenere uno sconto esclusivo per il canale oltre a supportare il canale e la sua realizzazione di contenuti 4 mesi aggiuntivi per i nuovi piani biennali e un ulteriore bonus su Seily l'app sviluppata da NordVPN per i viaggiatori acquistando il tuo piano biennale sempre al link sottostante su Seily otterrai 20 GB in omaggio così non avete più scuse per staccarvi da TradingView o CoinMarketCap per controllare le vostre amate criptovalute da qua continuiamo la puntata con un ragionamento positivo facciamo finta che siano diluiti cos'è che mi è piaciuto ieri? che prima di tutto l'RSI è arrivato a un livello che è rarissimo soprattutto in BullMarket e in BullMarket arriva adesso l'ultima volta che siamo arrivati qua leggermente più bassi è stato nell'agosto del 2023 quindi quando non eravamo ancora in BullMarket che vi ricordo è partito sostanzialmente con BlackRock che ci ha comunicato che sarebbe stato approvato l'ETF e prima ancora al crash di novembre 2022 vi ricorda qualcosa? FTX e Bitcoin a 15.000 dollari e altre volte nel bear market quindi non è proprio una cosa che succede spesso per deprimervi un po' in BullMarket l'ultima volta che siamo andati vicino a queste zone è stato nel bottom del maggio 2021 quindi dopo che Bitcoin ha fatto questa bella corsa lateralizzazione sul top siamo scesi poi ci ha messo un po' di tempo a ricrearsi il bottom abbiamo avuto l'ultima spinta e poi siamo entrati in bear market pensate se questo è il scenario da adesso all'elezione e questo è il 2025 nooo la ciclica qua mi taccio vedremo sta da facendo tornando noi quindi cosa mi è piaciuto questo calo così violento è stato violento eh se andate sull'orario lo vedete non è stato uno scherzo siamo partiti al mattino che stavamo recuperando intorno ai 63.000 e poi siamo venuti giù quindi bene la velocità del calo bene che abbiamo stampato un minimo con RSI negativo quello che fino a prova contraria è ancora un bull market e lo credo anch'io eh che è ancora un bull market sia chiaro e la dominance è scesa quindi non mi è dispiaciuto questo movimento le altcoin hanno tenuto anzi alcune addirittura in wallet se ne avevate qualcuna che era scesa molto nel periodo precedente ad esempio FET era pure in positivo anzi è anche rimbalzato bene vedremo adesso cosa combineranno con ASI ma tutto comparato alto ha tenuto e ciliegina sulla torta durante il calo con l'RS negativo le altcoin che tengono max pain paura eccetera abbiamo anche avuto una bella notizia negativa cioè quella di Medgox poi quanto sarà negativa lo vedremo quando avremo i dati sulla distribuzione solitamente poi non è una scienza esatta tutti questi elementi messi assieme fanno pensare che siamo arrivati al bottom di questo scarico con un bitcoin che al momento sul meno 17 quindi comunque niente di particolare è un minimo totale di meno 20 cosa mi piacerebbe adesso vedere da qua a fine settimana che è il bitcoin beh o faccio un v-shape to the moon l'ambo siamo tutti più contenti o che comunque vada a formare una sorta di minimo in quest'area vi dico la perfezione e chiudere sopra i 64001 64002 così ci riportiamo sopra il supporto di questo lungo canale ascendente e in conclusione promettevi allegria il Q3 solitamente un Q di oioioi un Q di M no sono cattivo lo so il Q3 è un Q di M perché i Q sono i quarter gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno ora entriamo in luglio agosto settembre di solito un Q di M perché settembre su tutti i mercati veramente un mese brutto guardate il bitcoin a settembre che schifo di performance fa luglio però è un mese immediatamente positivo vi ho detto più volte io punto a luglio e parzialmente ad agosto dopodiché ci rimane ottobre novembre che di solito sono dei buoni mesi apposta non vi parlo di dicembre perché quest'anno c'è un'elezione americana eccetera vedremo strada facendo quindi entro in luglio con le migliori aspettative sperando che sia un buon mese probabilmente i miei 80.000 dollari estivi sono mai un sogno abbastanza irrealizzabili però anche già tornare in area 70-73 con un calo della Dominance non sarebbe male poi sapete poi sapete cosa dovete fare non lo sto neanche a ripetere però ci potremmo finalmente divertire un po' anche se siamo all'interno di questo range sostanzialmente infinito non so se vi farò una puntata d'aggiornamento prima della prossima settimana vediamo un po' come vuole il prezzo se ci sono dei movimenti particolari sì altrimenti sabato vi rilascio un'altra puntata sulla Cina che poi andiamo avanti anche con la categoria Asia che quest'anno è incentrata sulla Cina poi il prossimo anno vi inserisco anche la Thailandia così variamo un po' dei soliti argomenti finanziari un saluto e alla prossima grazie a tutti